Il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni dell'assessore Guido Quintino Liris, eletto nella scorsa tornata elettorale in Senato e deliberato la convalida del neoconsigliere Leonardo D'Addazio. Il presidente Marco Marsiglio ha preannunciato la firma del decreto di nomina di Mario Quaglieri, quale componente di giunta che avverrà in sostituzione di Guido Liris. Si tratta, ha commentato Marsiglio, di una scelta di continuità a una normale sostituzione dell'ex assessore Guido Quintino Liris, diventato senatore della Repubblica. Un avvicendamento ha continuato all'interno dello stesso gruppo, mantenendo gli stessi equilibri politici. Intendo, quindi, andare avanti con questa composizione di giunta, ha concluso il presidente Marsiglio. E' soddisfatto il neoassessore Mario Quaglieri, il quale si è detto onorato e determinato a portare avanti nel migliore dei modi il lavoro fin qui svolto, assicurando impegno e dedizione nello svolgimento dell'incarico e in virtù delle deleghe importanti, quali aree interne e bilancio.